Il ruolo è Dino Tagliazucchi, il ruolo sono tratto in Ferrari nel 66, gennaio 66 come meccanico e nei primi del 69 sono passato con lui a fare l'autista. È stato un onore e non mi sembra vero che siano già passati 25 anni da quel momento perché non lo sogno ancora, i momenti più belli che ho vissuto li ho vissuti con quella persona lì, per me è stato un secondo padre. Secondo me quando lui era in vita non si è reso conto del successo che aveva nella sua azienda, era un uomo semplice, ha vissuto una vita semplice, secondo me è stato veramente un grande uomo. Queste auto alle sue spalle adesso che effetto le fanno? Mi fanno un bel effetto e sono orgoglioso di vedere un'azienda che va sempre meglio e che abbiamo un grande presidente che continua la tradizione di Ferrari. È ancora molto emozionato? Sì, molto. Quando parlo dell'ingegnere mi vengono i brividi alla pelle, veramente.